ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita voglio farvi un ultimo video per quanto riguarda la mia esperienza su final fantasy 14 ho visto che i video che ho portato e la live non hanno avuto il successo sperato ma mi rendo conto che quando io metto passione in quello che faccio nei video il mio la mia passione per un gioco il mio interesse per un gioco questo si percepisce sempre quindi voglio lasciarmi un pochino andare in questo ultimo video perché voglio darvi la mia impressione finale dopo soltanto un mese il primo che ho acquistato su final fantasy a parte quello che acquistai nel 2010 credo poco dopo nella versione proprio primaria del gioco non questa ho deciso di farlo in questo luogo così innevato una zona piuttosto nuova e che sono appena arrivato dove sto questando allegramente perché e ve la sto facendo vedere anche in modalità di cattura tutto schermo perché così almeno avete anche il tool che sto usando il tataru helper ho anche equipaggiato diciamo il mio ciocobo con un oggetto che ho recuperato le impressioni sono assolutamente ottime e vi spiego il motivo per la prima volta in un mmo rpg la storia mi sta prendendo e mi sta facendo anche rimanere male commuovere insomma darmi una serie di sentimenti che manca un gioco come world of warcraft che comunque di storia ce ne ha parecchia di lore ce ne ha parecchia e su cui io mi sono informato tantissimo riguardo alla storia precedente prima del cataclismo insomma guardandomi anche una serie di ore di video la storia in final fantasy è basata comunque sempre su fratellanza cooperazione e amicizia tra personaggi e soprattutto poco fa mi sono ritrovato a combattere adesso vi farò vedere il video un grande titano vabbè parte divertente sono morto in modo stupido ma i compagni lo hanno abbattuto un titano che fa parte della storia e per affrontare questo tizio ho dovuto fare una serie di ore di quest preparatorie in cui si andava si cercava di inseguire questa minaccia di capire chi di chi fosse che ci fosse dietro fino ad arrivare a poco fa dove c'è stata veramente un evento molto brutto all'interno del gioco che mi ha fatto rimanere male anche i personaggi che all'inizio mi stavano anche un pochino antipatici dopo questa cosa diciamo ci sono rimasto talmente male che quei personaggi lì adesso mi mancano e questi sentimenti un mmo non me li aveva mai dati poi un'altra cosa che ci tenevo a dirvi è il fatto che potrebbe anche essere outdated quindi anacronistico il fatto di combattere con target based così ma vi garantisco che il gioco almeno per quanto io l'ho percepito non è focalizzato su questo perché tante volte le quest sono recuperare oggetti parlare con delle persone fare degli mot particolari non c'è quella quantità assurda di combattimento che si adotta in altri mmo rpg dove per muoversi bisogna abbattere decine e decine di nemici in questo gioco non è così perché tante volte io schivo i nemici e non li affronto nemmeno e tutto va bene lo stesso perché vi spiego io sono avanti sono al 41esimo livello ma le quest che sto facendo sono di 35 e il gioco vi si adatta dato che potete fare tutte le classi sia lavorative che di avventura il gioco vi da mille modi diversi di fare quest quindi non siamo assolutamente focalizzati quelli potete tirare dritto potete farvi le quest e dato che io vi avevo sottoposto dei dubbi o comunque me li ponevo a me stesso dove la storia la storia ma io voglio crafting voglio far di qui di là e allora il gioco non è un sandbox ma vi consente di fare un'infinità di cose come potete vedere le mie classi sono queste io solo il summoner ma ho già comunque fatto qualche livellino nelle lavorative potete fare tutto vi richiederà una maia di tempo ma potete fare tutto ma tutto per sempre non potrete farlo quindi dovrete attingere comunque anche al mercato è un gioco che è a pagamento è canone mensile è vero ma non è come i free to play dove dovete spendere per ogni cosa cioè se qualcosa la volete che so dei venditori in più li pagate mensilmente però è un contributo che date al gioco ed è un contributo che date se al gioco ci giocate davvero e quelle cose vi servono davvero per il resto il gioco si lascia giocare e ovviamente tutto serve per tutto serve comunque un minimo di impegno basti vedere anche solo i company seals che bisogna ottenere il fatto che comunque bisogna c'è un rango da scalare facendo missioni che sono queste qui missioni territoriali la mappa è davvero grande divisa un po stile final fantasy quindi con i vari settori abbastanza canalizzati ma devo dire che questo non mi crea problemi vi inizierete ad affezionare alle varie città e vi inizierete ad affezionare ai personaggi e poi potrete stilare una lista di cose e di obiettivi che volete ottenere mount e così via la storia è un prerequisito per potervi godere poi tutto il gioco ovviamente adesso sto marciando verso la oltre la metà della storia del gioco principale poi ci sarà events world storm blood e così via ci saranno tutte le varie espansioni adesso arriverò al 50 poi ci sarà dal 50 60 fino poi ad arrivare all 80 continuerò questo gioco nei prossimi mesi vedremo io ma sto prendendo molto tranquilla e calcolando che con l'editor qui il traduttore non ci sono relativi problemi io penso di sì però è una cosa che potrò poi smettere riprendere un po come voglio ma vi vi dico per quanto magari tantissime quest sono vai recupera l'oggetto uccidi le persone c'è un motivo dietro ed è ma banalmente ho dovuto fare delle quest dove dovevo fare avanti e indietro parlare con un tizio però c'è una storia una sotto quest dietro sempre della storia principale dove dovevamo recuperare per un banchetto che poi si è rivelato essere una prova per me per vedere quanta dedizione mettevo nel lavoro recuperare una bottiglia di vino ma è un vino che a seguito di un cataclisma non si realizzava più qui nel mondo e poi ci sono state delle belle scene tra vari personaggi che all'inizio si odiavano poi alla fine hanno mostrato amicizia e alla fine andare a recuperare un vitigno fare di qui di trasportare bottiglie regali vari è stata bella la cosa perché poi alla fine io ho contribuito a riportare un tipo di vino nel mondo di una pianta da cui appunto si teneva col vino che sembrava essere estinta definitivamente dal mondo quindi sono banalità però sono cose che vi godete pian piano e voi direte ma allora per tanto così mi gioco un final fantasy normale per lo più in per di più in italiano in realtà no perché quello che voi fate qui a parte l'aspetto social l'aspetto di sfoggiare un qualcosa di fronte agli altri e ci sono una marea di cose che vi faranno perdere tempo in modo positivo di obiettivi che i final fantasy normali non hanno e vi spingeranno semplicemente a fare la storia e basta e poi sì ci sono attività secondarie diciamo incollezionabili però ok adesso lievo vedere qualcuno che non sia un dannato uomo uccello poi ogni tanto vado a vedere che cosa vuol dire perché la traduzione poi mi aiuta anche imparare nuove cose pensavo di poter finire il mio lavoro mentre gli exali erano via ma sono tornati molto più velocemente di quando mi aspettassi era tutto quello che potevo fare per nascondermi e sperare che se ne andassero di nuovo prima che mi bloccassi aspetta chi sei non sei uno dei nostri cavalieri un uomo della casa da durander non può essere visto in compagnia e praticamente mi hanno mandato praticamente perché ora io sono in questa nuova regione per apprendere dai registri di questi signori che abitano qua al nord dove potrebbe essere precipitato un dirigibile un'aeronave prima della guerra e ovviamente come capita ripetutamente all'interno di final fantasy 14 questo non ci viene rivelato subito ma dobbiamo andare a conquistarci la fiducia ed è incredibile quanto noi vaghiamo per il mondo e essendo sempre di corsa come un uomo al lavoro un uomo d'affari non ci possiamo mai soffermare ad esplorare perché se si segue la storia si tira da litto si va si fa ma è incredibile quanto la storia gli eventi ci portino ad apprezzare alcuni luoghi come un viaggiatore che vede nuovi luoghi poi prende e va via ma nel momento in cui ci torniamo il ritorno in questi luoghi ci rievoca ricordi di quello che abbiamo fatto ah qua ho contribuito io a fare questo ah questi tizi qui erano sottomessi da un traditore che non si faceva vedere io l'ho beccato e io l'ho ucciso oppure ah quel dungeon lì che vedo in lontananza l'ho fatto quella volta perché la quest mi imponeva di andare e scoprire chi stava dietro e macchinava contro il regno cioè sono tutte finezze veramente molto belle e vi garantisco che quando sentivo dire guarda il gioco pazienta perché non si apre le prime ore ma cavoli quanto avevano ragione lo sciocco arrogante è tornato poco prima che tu arrivassi borbottando sulla disgrazia di essere stato salvato da un non credente gli sta bene per aver sottovalutato i pericoli che i nostri cavalieri affrontano ogni giorno ah ma non vedi l'ora di localizzare la tua aeronave potrebbe sorprenderti che salvandolo hai già aiutato la tua stessa causa la casetta d'undere è pronta a considerare gli estranei con sospetto perché è loro a dovere dare l'allarme per un segno di regressione del dravaniano eppure li hai già aiutati è un po' contorta la cosa poi a volte devo leggere qui però aiuta tantissimo lo garantisco e dovete far solo un doppio clic per il tool prima di avviare il gioco in sintesi anche così non ti concederanno l'accesso ai registri all'osservatorio questo è un bene perché ci sono altri modi per localizzare il tuo dirigibile scomparso quello che ti propongo è che ti faccia una petizione che tu faccia una petizione a Lord Portelen con un'introduzione ufficiale alle alte casate la parola a casa d'undere è un preso enorme su Isgarda a Isgarda se il capitano consente non avresti problemi a ottenere informazioni alle alte casate ok e quindi abbiamo un'altra missione e si va avanti e indietro cercando di localizzare questa cosa cosa molto carina all'inizio noi veniamo subito riconosciuti nella nostra città di partenza come degli eroi perché comunque faremo svariate missioni e avremo successo per forza di cose come vuole la trama e verremo invitati a partecipare a dei festival nelle tre città principali delle manifestazioni dove parleranno i leader ed è bellissimo vederli parlare perché io al momento per quanto io sia uno smemorato che non ricordo i personaggi che mi dimentico le cose i personaggi, i leader, me li ricordo e come mi ricordo benissimo la sovrana della città, Gaidania la sovrana, l'Alafell, con il suo capo ufficiale umano a Ulda e l'ammiraglio a Limsa-Lominsa sono tutte cose che fanno un discorso molto bello con la gente che applaude cioè c'è tutta un'atmosfera dietro cavole è veramente qualcosa di... e poi la community la community io non ho avuto ancora modo di unire mia gilde perché al momento non ne ho voglia ne ho interesse aspetterò magari quando e se arriverò al capo tuttavia il gioco incentiva molto la cooperazione ma soprattutto la gente che vuole seguire la storia quindi tante volte mi hanno aspettato sono saliti su un ascensore in un dungeon e io faticavo ad arrivare e perché non li trovavo mi hanno aspettato non hanno preso l'ascensore io ho dovuto salire da solo come capita su altri giochi ecco, grossi e soprattutto il gioco se qualcuno sta guardando una cutscene perché è un dungeon che non ha mai fatto della storia principale quindi si sta guardando il video gli altri non possono iniziare non è come Warcraft dove ti guardi il video e il boss è già morto quindi c'è un grande rispetto calcolate che c'è gente che fa anche arrivando a livelli estremi una sorta di tutor mentor si chiama quindi gente che gioca apposta per insegnare ai nuovi giocatori che dire della mia classe mi piace molto non ne ho provate altre e soprattutto adesso che ho sbloccato tante cose non so ancora dove mettere bene le mani ma è un incentivo a me per andare a guardarmi su internet una rotation e ottimizzare quella che ora sto usando in modo abbastanza raffazionato quindi ovvio se voi volete qualcosa di pronto no un minimo di impegno ci vuole anche qui ora parlerò con questo tizio sono andato abbastanza a ruota libera perché il gioco è davvero carino e ci sono tantissime quest con il più che vi sbloccano sempre cose nuove calcolate che io adesso ve lo digito qua in basso a sinistra faccio slash play time e vi dico 41 livelli presi tranquilli giocando la storia facendo anche qualche lavorativa qualche commercio ho giocato un giorno 18 ore quindi sono praticamente 24 34 42 ore quasi 43 ore di gioco in un mese non sono tantissime per un MMO per esplorarlo tutto però calcolate che se c'è gente che ci gioca e calcolate che i lotti delle case sono tutti pieni e tutta gente che paga il gioco è quanto mai vivo non ho mai interagito con la chat come vi dicevo perché non ho mai dovuto chiedere niente il commercio funziona bene l'asta funziona bene soprattutto non ci sono chat tossiche c'è già gente che paga ed è un gioco non semplicissimo agli inizi quindi tiene lontano i bimbi minchia io adesso con questo salvo plebisciti plenari in cui mi chiedete diversamente io non porterò più Final Fantasy 14 perché vi ho detto la mia da scettico da persona che già lo voleva iniziare due anni fa e qualcuno gli aveva detto no non farlo non è bello non parlo ovviamente di iscritti insomma chiedevo anche ad amici non farlo gioca ad altro e cavoli non è male ora comunque uscirà l'espansione nuova io non penso assolutamente di prenderla al momento perché ovviamente si gioca dopo il livello 80 e non ha senso perché da giocare ce n'è ancora l'ultima e l'ho già fatta questa domanda questa risposta insomma però la rifaccio di nuovo conviene giocare in free to play come consente il gioco senza acquistare nulla vi consente di arrivare fino al 60 quindi potete fare tutto con limiti calcolate 300.000 e giglio ne ho 200 ma 100.000 mi ha regalato un tizio che passava così generosamente si può giocare però tenete conto che non potete fare parti cosa che io non ho mai fatto e non potete commerciare io sto commerciando ma è anche vero che se volete commerciare dovete far salire queste quindi io l'ho preso vabbè c'era questa razza in più che poi diventerà ci sarà anche da uomo quando la razza c'è il genere umano c'è dei dei viera anche maschili con handwalker e vale la pena sì ma giocate la gran parte delle cose è già così se non vi interessa commerciare al momento e volete godervi la storia anche rispetto a quanto vi ho detto finora vi conviene giocare velo gratis senza costi poi il gioco ve lo comprate vi costerà più o meno una trentina di euro con un mese incluso con tutte le espansioni tranne l'ultima un po' la logica di World of Warcraft quindi insomma questo è quello che penso di Final Fantasy XIV promosso pieni voti ottimo bel passatempo non troppo diciamo che non richiede tempo perché il tempo ve lo dettate voi ovvio se volete farvi la casa volete farvi l'equip bello dovete farmare ma neanche a livello coreano perché comunque di cose da fare ce ne sono dite ah passo di lì già sono vicino a questo mi faccio anche questo ve la prendete liberamente la quest è qui ad esempio passo di qui mi faccio questo evento qui passandoci in mezzo se c'è già qualcuno che lo fa poi sblocco il gioco dopo keep le quest io non le faccio mai ma calcolando domani in cui dovrò magari livellare un'altra classe me le farò il gioco è sterminato a livello di quest qua ci sono tutte queste quest che sbloccano le missioni perché quando sbloccate le leves di una regione qua dentro potete andare ad accettare missioni generate a caso sia di uccisioni mostre sia di crafting quindi avete un continuo generarvi esperienza fino al vostro venditore che vi potete fare poi nel corso dell'avventura ma questo credo serva all'abbonamento e potete mandarlo in missioni ogni giorno per fare omissioni se gli date una classe d'avventuriero come voi dovete averla già fatta o una classe da minatore piuttosto che altre cose e lui lavorerà vi porterà dei materiali ogni giorno basato anche questo gioco sull'attesa sull'inviare in missione le trauppe che potrete avere e il vostro retainer che è insomma il vostro notizio che vi vende la roba all'asta o che potete mandare in missione per recuperare degli oggetti questo era il mio commento finale su Final Fantasy da inesperto da meno di 50 ore di gioco insomma però le impressioni principali sono quelle più interessanti piuttosto che un tizio che dopo 5000 ore di gioco vi mostra quanto è figo queste sono le mie impressioni da scettico scetticissimo spero di avervi fatto cosa gradita di avervi portato questo video e io vi saluto e vi rimando al prossimo video ciao ciao ciao